John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video un po' particolare, non è un caso che io abbia la maglietta di OneFootball, non è assolutamente un caso. Infatti vi devo parlare di una cosa bellissima che mi accadrà e vi devo informare perché attenzione, è una cosa molto importante per il canale che accadrà nei prossimi giorni. Tra il 27 e il 30 di questo mese, quindi 27, 28, 29 e 30, esattamente domani, dopo domani, il giorno dopo domani, quindi the day after tomorrow, il giorno dopo domani e poi anche 4 giorni da domani in poi, andrò a Berlino Beppe, andrò a Berlino ragazzi. Avrò l'opportunità di andare a Berlino e ho l'opportunità di andare a Berlino grazie a OneFootball, che io non posso assolutamente far altro che ringraziare veramente tanto ragazzi. Ovviamente ci mancherebbe, vi lascio il link qua sotto in descrizione per scaricarla, ma comunque da quando ho iniziato a collaborare con OneFootball devo dire di essermi sempre trovato molto 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 bene. E questa è una grandissima opportunità ragazzi, veramente sono contentissimo. Sono stato scelto tra 16 persone in tutto il mondo e 4 persone in tutta Italia, perché di questi 16, 4 siamo italiani. E vi dico anche chi siamo, io, Gaboman, Il Green e Justiz. Siamo noi 4 che partiremo per Berlino. Andiamo a Berlino per fare due cose essenzialmente, oltre ovviamente ad avere l'opportunità di incontrare altri youtuber da tutto il mondo, quindi ovviamente sempre interente al calcio. Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, poi vedremo insomma chi ci sarà. Avremo l'opportunità, uno, di disputare il torneo FIFA 19 del mondo. Siamo stati scelti in 16, disputeremo un torneo Champions League, appunto ognuno avrà una squadra a sorte e questo campionato appunto ci sarà tanto di premiazione. Sarà una cosa veramente molto 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 bella. Non vedo l'ora veramente ragazzi, non vedo l'ora. Sono stato comunque rassicurato, ci sono diverse persone che parteciperanno, anche un tifoso del Manchester che fa quello che faccio io però parla del Manchester. Quindi non vedo l'ora veramente di avere l'opportunità di confrontarmi con gli altri, al di là del fatto che poi io non sia una cima a giocare a FIFA, però è una cosa che secondo me ci darà tantissimo divertimento. Punto uno. E punto due ragazzi, punto due, avremo l'opportunità, questa è grandissima, di entrare all'Olimpia Stadium. Infatti venerdì sera, venerdì mi sembra, ci porteranno all'Olimpia Stadium a guardare Erta Berlino, Bayern Monaco. Ora, ah fra l'altro, fra l'altro, sabato c'è il derby, c'è Roma-Lazio, Giastisa è laziale, Gabo è nel romanese, io sono romanista, faremo un video assolutamente insieme. Avremo l'opportunità di registrare delle reaction, avremo l'opportunità di registrare dei video, avremo una sala dove vedremo questo derby. Quindi sarà una cosa anche fatta molto 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 bene, dedicata a noi per il derby. Quindi ragazzi, veramente non vedo l'ora. Perché vi faccio questo? Perché vi racconto questo? Innanzitutto perché è veramente un'emozione gigante che volevo condividere con voi, perché se ho questa opportunità assolutamente è gran merito vostro. E seconda di poi, ragazzi, che è molto importante, questa è una grande occasione per il mio canale, una gigantesca occasione. Perché? Perché posso portare veramente dei contenuti di qualità. Quando parlo di qualità intendo in 4K con la videocamera, perché poi è un progetto che porterò, in questo periodo ho avuto dei problemi con gli esami, però è un progetto che porterò, perché questo canale punterà anche sulla qualità. Vi posso portare un sacco di contenuti video con altri youtuber, vlog, vlog di me in Germania, all'Olimpia Stadium. Quindi vi voglio portare tantissimi, tantissimi contenuti. E ho bisogno del vostro aiuto, perché ovviamente un canale YouTube per me è prima di tutto interattivo. Quindi innanzitutto io vi chiedo, se avete idee o magari, diciamo, dei video particolari che vorreste vedere di me a Berlino, a me ragazzi fa piacerissimo che voi lo scriviate qua sotto, perché io prenderò in considerazione tutte le vostre idee. Saranno 4 giorni, per me molto belli. Ovviamente si parte sempre a livello lavorativo, perché YouTube si parla sempre di lavoro, perché in questo momento, al di là poi della passione, c'è sempre il lavoro. Se posso partire grazie a One... scusate, ho dato una botta. Se posso partire grazie a OneFootball in Germania. Però ragazzi, soprattutto, stiamo parlando di una grande occasione per portare dei contenuti di qualità. Tra l'altro c'è il green, quindi qualità per forza, ma a parte gli scherzi. E quindi, se voi avete delle idee, oddio, se voi avete, mi uccideranno, a parte gli scherzi, commentate qua sotto. Ve ne volevo parlare, ci tenevo tantissimo. Spero che voi gradiate questo video, perché ragazzi, per me, è un'emozione veramente gigantesca. E da domani in poi, appunto, usciranno questi video. Avevo intenzione di spiegarvi il tutto, per non farvi trovare... Ma perché questo sta qua? Ma com'è possibile? Ma che è successo? Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi dà più di me da lasciare un mi piace, in caso di non trarvi un dislike. Però ragazzi, bombardate questo video di mi piace. Se siete felici di poter vedere questa tipologia di video un po' particolari. Cercherò di portarvi contenuti inediti sul canale. Vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale per non perdervi nessun altro video. Ringrazio ancora OneFootball. Grazie mille. Buon shalala e come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.